e bella a tutti i ragazzi bentornati in un nuovo video oggi come vedete giocheremo a dream league socher e raga stiamo giocando gesto stavamo giocando oggi mi pare mettete tanti pollici in su iscrivetevi al canale che visuale c'hai che visuale c'hai bella a tutti raga sono un amico di francesco costantino entro immobile no l'ascoltate stavamo giocando e raga vabbè stiamo ancora a zero a zero no però mi devo comprare mi devo comprare oddio sono un porcile qua a terra ma adesso è un porcile a terra a terra a terra a terra a terra a terra